Madonna, era partita anche con i suoi migliori auspici, un Milan che era quasi tambureggiante, il Sassuolo ripartiva, poi il Sassuolo è una squadra che comunque gioca bene a calcio, che partita del cazzo ragazzi, scusate il francesismo, mamma mia ma che du palle, fa dio, nel secondo tempo ho detto dai mi metto qua, il Milan sicuramente attaccherà, al sessantesimo mancava ancora mezz'ora, poi addirittura ha dato 10 minuti di recupero, 7 sono diventati quasi 10, alla fine addirittura calcio davanti del Milan che ho detto sta a vedere che fanno gol però ho detto, al sessantesimo finisce così, è proprio piatta, poi sì, il Sassuolo ha perso Berardi per infortunio, spero nulla di grave in quell'azione in cui sarebbe stato forse anche rigore, non lo so, però era fuori gioco, Teo gli ha dato una spallata, però un problema muscolare, sarà un problema muscolare per Berardi, mi dispiace, ecco perché poteva essere, cioè la sua stagione lo è sempre Berardi, poi sono anni che fa bene, però come dire, ormai ha 28 anni, quindi l'ennesima stagione della consacrazione, con gol e assist e mi dispiace per Berardi che però ha macchiato questo match, con alla fine l'unica grande occasione della partita, perché consigli e megnani no per Osi, però c'è stato questo rigore guadagnato da Chiriacopoulos, schierato nei tre davanti da Dionisi, quindi il Sassuolo che sale a 5 punti, il Sassuolo che è sempre una bella squadra, infatti io l'ho messa, mi pare, nelle prime 10, comunque non a 10, ma perché ha perso la partita con la Juve, ma quella lì non fa testo, perché in quel momento lì il Sassuolo era un cantiere aperto, invece il Sassuolo adesso si è messo in careggiata e anche oggi ha fatto una prestazione concreta, solida, comunque la squadra l'ho vista bene, in attacco magari non è stata brillante, però appunto Chiriacopoulos schierato nei tre davanti è un giocatore che a me piace molto, però ha un problema, che ha un solo piede Chiriacopoulos, cioè neanche per salire le scale usa il destra quello è molto limitante, soprattutto se giochi in avanti e a sinistra, quindi talvolta devi rientrare sul destra, sul piede debo comunque, in quel caso lì, ha fatto una bella azione in mezzo a due a Salmequer e Florenzi c'è il fallo netto di Salmequer, che ha coronato con questo fallo una prestazione veramente anonima, ragazzi Salmequer è un giocatore che io non nascondo che non mi dispiace neanche per sacrificio per abbenegazione per anche atletismo, però ragazzi è veramente un giocatore piatto e addirittura ha fatto questo fallo anche un po' ingenuo, poi c'è anche Florenzi che partecipa al sandwich, appunto che va a decretare il rigore nettissimo bravo l'arbitro, ben posizionato a Iroldi, a decretarla, appunto il rigore di Berardi, che di solito è abbastanza ultimamente infallibile dal dischetto rigore calciato veramente malissimo, cioè proprio da non far vedere i bambini delle scuole calci perché lo calcia centrale col piatto, quindi molto debole e sembra addirittura che lui cambia l'ultimo perché lui siccome vuole aprire vuole aprire alla destra di Menian Menian parte prima, allora lui sembra che calci centrale però gli rimane il colpo in canna tiro debole a mezza altezza mai tirare un rigore così se scegli di tirarlo centrale devi tirare una bordata forte, alto comunque abbastanza alto invece per Menian lì con la mano di richiamo è facilissimo, è chiaro però ecco riavolgendo il nastro il Milan era partito bene all'inizio e io avrei dato continuità a Decatelier francamente perché non ha bisogno a mio avviso di riposo anzi ha bisogno di giocare per entrare nei meccanismi di Pioli giusto e per carità fare il turnover Salmec e Erkier Erkier ha giocato bene però non ha ripagato diciamo questo turnover di Pioli anche comunque Pobega a parte qualche intuizione ha messo una bella palla Giroud non mi era piaciuto però Leao sembrava in partita oggi perché comunque nel primo tempo ha due tiri pericolosi era comunque imprendibile ricordiamo che abbiamo chiuso il campionato con un 3-0 detonante del Milan a Reggio Miglia che ha decretato lo Scudetto con un Leao in grande spolvero però due mesi dopo è un'altra partita e il Milan sembra quest'anno faticare un po' di più in trasferte chiaro Sassuolo ha cercato di ribattere comunque colpo su colpo Beraldi comunque un po' spento ecco si è fatto vedere per carità però un po' spento l'ho detto belle iniziative di Chiracopoulos frattesi nell'inserimento di testa sempre pericoloso bravissimo anche Maximo Maximo Lopez ha fatto una partita a volte ritardava un po' la giocata a volte nel passaggio però proprio sostanziosa ha schermato bene la difesa è un giocatore piccolino però è veramente un po' come il Torrea della Fiorentina è veramente un cagnaccio e Pina Monti oddio mi aspettavo qualche lampo in più forse non è ancora in condizione magari manca un po' d'intesa coi compagni però non si è mosso male il giocatore sapete che a me piace però ecco nel secondo tempo invece anche quei cambi Pioli stavolta non è riuscito a cambiare le sorti della partita purtroppo ecco io un problema che già avevo previsto Ridge a me non convince e capisce che Giroud comunque ha un'età quindi togli Giroud ha dovuto adattare Decatelere prima punta che non si è trovato poi ha fatto il suo perché Decatelere è un giocatore intelligente ha messo una bella palla per Leao lavorando anche col fisico da prima punta però lo snaturi è chiaro Adli comunque l'ho visto propositivo con personalità si è fatto dare i palloni Leao ribadisco per me ha fatto stato uno dei migliori non precisissimo però a volte era anche tanto solo Messias è entrato bene ha spaccato il match ha provato a spaccarlo bene Benassere veramente dappertutto però ecco ripeto male comunque la corsia di destra Florenzi e Sammichar che hanno sofferto hanno causato rigore bene invece come vi ho detto per esempio Menjane anche Teo un po' nervosetto però ha fatto due o tre diagonali importanti è chiaro poi voglio vedere quell'Alvarez e il Sassuolo che per me è veramente bravo ha fatto due attrazioni interessanti però poi lo voglio vedere quando verrà schierato di più comunque al momento ecco mi viene da dire che è un campionato molto equilibrato che facendo una proiezione si vincerà con meno di 80 punti no la butto lì poi adesso vediamo perché comunque il Milan per carità è solido cioè il Milan comunque anche quando non vince non perde quindi questo è importante però vedetelo paradossalmente l'Inter vincendo stasera e teoricamente dovrebbe farlo potrebbe al momento scavalcarlo e poi c'è il derby quindi lì si rimescoleranno le carità comunque adesso mi guardo l'Inter darò un'occhiata anche alla Roma ci vediamo quindi tra due orette per il post partita bella grazie a tutti